ciao a tutti bentornati con una volta su indigan play it oggi siamo su pariso un simulator un gioco che potete trovare su steam già da probabilmente pochi giorni perché esce il 4 di novembre lo sto registrando il tema lo vedrete più avanti quindi non so dirvi ancora il prezzo so però che tanti lo hanno già pubblicato con dei video ora io me ne frego nel senso che io vi mostro l'inizio come magari hanno mostrato tanti cercando di dare un tocco personale e quindi vi voglio far vedere diciamo una modalità un po diversa dove giocheremo insieme a voi senso che la chiameremo la indie prison e soprattutto il nome dei detenuti sarete voi nel senso le persone che io comunque ho visto più attive in ora le inserirò come prigionieri sperando di non portare diciamo torto a nessuno quindi ora datemi una decina di minuti che rinominerò ognuno di essi ok siamo pronti ho registrato non ho registrato tutta la selezione dei nomi ma in sintesi ci sono i bu 90 ovviamente le facce non le ho toccate i crimini sono quelli che ha posizionato il gioco di base abbiamo i bu 90 neutrale ha rubato in un negozio di giocattoli the darkness hell che ha farò di via internet farà già spaccio mr delrich ha rubato un rubato un cane ale murge dato che un nome l'ho storpiato rubato in un negozio di giochi lord silent breaking into il museum ha fatto in un museo fitz carraldo poching ha diciamo rubato dalle tasche c'è kinian 61 che ha rubato fatto un assalto armato a un negozio con esito fatale baobab che è rubato in una giuglieria rossian caster che ha rapinato qualcuno ciccio popazzo che ha fatto una diciamo in una violenza fisica rituale per non usare altri termini ivan di pietro che ha fatto una rissa gameplay channel che ha rubato un gatto vabbè c'è silm a che ha causato un incidente fatale e beppo z e genocida e odin e ha fatto eruzione in un appartamento queste sono questi sono i sedici i sedici detenuti verranno divisi in gang posso selezionario le gang gli squirrel no randomize all ok non voglio neanche guardarle le randomize abbastanza così quando sono un po sparse ok e abbiamo gli scoiattoli le foxes e beers con i vari gruppi di persone le gang sono state create lo iniziamo a giocare poi se vi piace magari ce lo guardiamo in una live ancora adesso facciamo un breve gameplay in cui iniziamo avete già visto comunque magari da altri content creator come il gioco si svolge però iniziamo che cosa è questo gioco questo gioco simuliamo di essere una guardia carceraria dobbiamo provvedere a fare il nostro quindi le pulizie a destra noi stessi a fraternizzare o meno con i prigionieri e tirarceli contro o diventa diventare i nostri amici insomma anche andando contro quelle che sono le regole del carcere ma che sono le regole della vita in prigione è un gioco da quello che ho visto anche piuttosto fuori di testa per alcuni aspetti ma vediamo alcune alcune cose che possano succedere possiamo diventare molto amici di alcuni favorirli nei loro traffic all'interno della prigione oppure fare gli agenti diciamo inflessibili benvenuto a prison simulator vabbè join a discord il tuo compito principale è completare la routine che ti viene assegnata giorno per giorno controlla nella lista nel journal che di default è il tasto j durante il giorno reagisce al brutto comportamento di alcuni prigionieri e va bene molte le tue azioni sono valutate dalle altre guardie dei prigionieri che influenza il livello di rispetto il livello di rispetto in alto a sinistra dello schermo è medio delle tue individuali relazioni con i prigionieri durante il tuo tempo libero puoi rilassarti giocando a i giochi facendo side quest quindi queste con dario reagì reagendo in eventi di gioco ok qua siamo noi possiamo prendere già l'istintore ma no possiamo prendere anche la marietta qua dovrebbe esserci il nostro visto nel video che lo priva ma bu salve questo richard bryant attenzione lui attenzione richard bryant odia baobab a rispetto del 40 per cento di essere il nuovo ufficiale di ripiego giusto sono richard felice di conoscerti e lo richard hai qualche domanda prima di cominciare a pattugliare vuole parlare puoi dimmi qualcosa di questa prigione è come ogni altra prigione pericolosa se non stai attento un giorno un tizio un prigioniero si comporta normalmente gli altri giorni ti minaccia insomma ti fa non puoi fidarti di loro ci sono alcuni però abbiamo una ottima social room dove puoi riposarti bere caffè e giocare a freccette hai sentito dell'ultima rivolta no alcuni mesi fa c'è stata una grande rivolta i prigionieri hanno aperto tutte le celle stavano provando a prendere possesso della prigione è esattamente il giorno dopo che il nuovo ufficiale è arrivato quindi penserei che tizio sfortunato questo è un chiaro riferimento al fatto che potrebbe capitare di nuovo va bene un altro giorno c'è stato un black out che ha salvato ma va bene insomma il tizio ha salvato tutto poi non lavora più qui ha avuto alcuni disaccordi con le altre guardie e penso fosse a proposito di soldi e qualche altra no I'm good time ok se ti senti perso apri la mappa vabbè pronto seguimi andiamo a quella grafica che non è proprio del disagio però è un po come tutti quei simulatori in cui comunque non è che viene posta una grande attenzione però è divertente e quindi che succede ti piace questo lavoro abbiamo iniziato a cinque minuti sì mi piace allora dimmi da chi compri la tua droga lo dico anch'io al lavoro è vero quando qualcuno arriva sorridendo ma devo pagare a devo parlare al worden è il capo devi essere il nuovo tizio il nuovo ragazzo sono kenneth il tuo nuovo presidente insomma un presidente come ti senti nervoso non preoccuparti il primo giorno non dovrebbe essere troppo duro credo solo non mostrare alcun segno della paura i detenuti possono percepirlo possono non usarla ora parliamo di affari ti segnerò la mappa dove dovresti andare per prima cosa dopo ogni routine hai tempo libero poi riposati dare un controllo alla facility alla prigione o rilassarsi rilassati ok quando hai fatto è tutto any question man good dai proviamo a vedere dai tanto ci indica tutto cosa fare il gioco quindi bella l'ombra lì del tizio andiamo yes go to the cell block chiude da sola tutto ok qua questa verrà aggiunta a livello 6 è un locale delle docce no qua c'è la mensa la security il blocco delle prigioni e va bene quindi non avremo ancora che fare con i sì no penso proprio di sì puoi acquistare un po di cibo se ne hai bisogno mangiare e ripristi nei tuoi punti vita vai alla vending machine di default premie prendi quello che per prendere cibo nella tua mano apri l'inventario di default io che i tasti sono classici mi bevo una coca bella fresca cinque dollari ma che furto è bene apriamo l'inventario abbiamo la quella me la tengo lì che me la bevo appena è un po di sette diamo lei non sta proprio bene poi potete mandare se non lo sapete già in isolamento tutta la gente che dà problemi potete punirla potete perdonarla potete far voi è una fazione piuttosto che un'altra ma non vedo l'ora di conoscervi ragazzi io ovviamente ho scelto le persone che sento di più che vedo di più in live che ho visto nell'elenco dei commenti che sono iscritte magari da più anni quindi ho scelto quello poi magari si può cambiare uno dice lo faccio come premessa se qualcuno non vuole farsi vedere come detenuto io lo tolgo e metto un altro il tuo primo compito è verificare la sala d'attesa insomma vai all'ufficio dell'amministratore apri la leva ora poi prendi un clicker che è il contatore di default q e contali quando un prigioniero non non vuole fare quello che dici vai a parlargli e cerca di capire perché non copra ok dobbiamo andare di qua apriamo la porta tiriamo la leva le porte si aprono e i tizi escono iniziamo con il clicker allora il clicker eccolo qua inizia dobbiamo contarli devono essere 16 quindi i bu 90 uno te lo conto due volte? no me lo conto due volte the darkness buon di fara che non mi avvia rumori suoni di flauti vari tre mister del rick ale murge abbiamo lord silent buongiorno abbiamo Fizzcaraldo abbiamo Kinian 61 abbiamo baobab uuuu c'è o sean caster che uuuuhuhu sean caster che piacere se un prigioniero non sta alle regole dovrebbe essere punito ma prima hai bisogno di pacificarti insomma di calmarlo con una manganellata e un taser o un taser in alcuni casi parlare abbastanza seleziona il walkie talkie di default q e parla a persona aggressiva usa il walkie talkie per scegliere che tipo di punizione se tu scegli un confinamento solitario come punizione parla al prigioniero dopo che tu hai finito la tua routine e portalo alla solita i cell ok ascoltami o sean caster che problema hai talk ehi c'è l'appello per assicurarsi che tutti siano presenti è ridicolo quindi nemmeno puoi dirmi alcune potresti darmi alcune notizie come roll come annunciare l'appello vabbè quindi hai finito si scusa mi sono alzato col piede sbagliato ok è uscito normale niente potrei andare peggio ho visto in altri video in cui comunque iniziava peggio ciccio pupazio presente abbiamo Ivan Di Pietro che è qui e qui abbiamo Gameplay Channel che anche lui dà qualche segno di squilibrio ehi Hugh stai parlando a me? si sto parlando a te vedi qualcun altro qui? bene è divertente che tu hai menzionato questo che ho una compagnia nella mia cella per un po' di tempo ma non non penso che nessun altro veda me a parte me è possibile che ci fosse un fantasma? cioè è lui è lui è proprio lui i fantasmi non esistono detto a Gameplay Channel è eccezionale io penso che tu abbia ragione ma forse sono dei deidratato o qualcosa di simile ma i vampiri sono reali va bene mamma mia sta nascendo con un realismo eccezionale abbiamo anche Silma che si rifiuta di uscire Silma che succede? ho bisogno di concentrarmi su cosa? per fare un capolavoro qui sto cercando il posto migliore sul muro ah vuoi fare un murales puoi continuare dopo la chiamata no 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 non puoi disturbare un artista con qualcosa tipo l'appello ehm forse ti sei dimenticato di dove ti trovi in prigione sì e in una brutta prigione ad essere onesto ci dovrebbe essere una ristrutturazione qui posso suggerirlo al warden potresti farlo fantastico eh già lo siamo voltato via con poco comunque posso suggerirgli di costruire uno studio d'arte e allargare le celle e aggiungere più finestre va bene dai vieni fuori quindi bravo Silma bravo ok abbiamo incontrato anche lui abbiamo Beppots e abbiamo Odin è l'ultimo abbiamo fatto l'appello ora è il tempo libero puoi giocare mini giochi o fare alcune side quest quando noti qualcuno che ha un punto di esclamazione sulla testa significa che ha una quest per te facendo side quest per guadagnare più soldi e guadagnare rispetto le altre icone eh come pugni o nuvole eh sono connesse con tasca con missioni che hai da completare battere qualcuno eh o parlare a qualcuno allora con il pugno significa di battere qualcuno parlare con qualcuno la nuvola muovi il mouse ok quando ok hai un avviso per la testa significa che hai completato una quest e check on the map per i mini giochi va bene ora vediamo un po' cosa succede se metto i pugni nelle mani ok vediamo un po' ho tempo libero adesso free time vediamo se c'è qualcuno che mi da una quest o qualcosa che vuole vuole offrirmi del lavoro magari non dovrei perché dovrei fare il mio lavoro però carissimi ragazzi nessuno di voi ha bisogno di me i miei stradelli bravo stare lì sul trono eh niente non ne avete bisogno quindi non avete bisogno di me quindi me ne vado sono comunque benvoluto da tutti perché comunque durante il mio primo appello nessuno ha fatto rissa con nessuno quindi io direi di andare dato che prevedo già un andazzo difficile vado in corsa come se non ci fosse un domani a provare vediamo un po' la mappa carina davvero bella voglio andare al poligono voglio sparare perché non sa mai che un domani io debba difendermi contro di voi carissimi ok benvenuto al poligono di tiro qui puoi rilassati migliorando la tua mira vai alla lo stand selezionato seleziona ok vediamo possiamo aprire qui non posso usare lancia granate vero? emergency box no vai andiamo allo stand e spariamo vediamo un po' com'è lo ah posso pulire l'arma qui ah oh ok stand 1 stand 2 voglio sparare con la pistola vediamo che che punteggio facciamo rifle o no la root gun devo colpire allora 0 1 no 3 1 2 3 ok colpivo la testa devo mirare qui ma che è in culo ma non finisce mai la carica di questa pistola? ok ok e perché alcuni casi non lo colpisco? cioè io mi ero lì e non va giù ok ho fatto un new record 63 punti in 36 secondi non male posso provare la pistola o è finito il free time? no devo andare a pulire la prigione quindi prendo il mocho e porta della mia esperienza su house flipper cioè mi trovavo già qui e già che ci sono pulisco le tracce di ketchup e di impronte che ho lasciato ah dovevo già comunque pulirla questa zona quindi va bene andiamo a pulire anche l'infermeria ah prendo la spugna e pulisco il tavolo sporco di sangue in modo inquietante anche lì cos'altro c'è di sporco? cioè ho comunque solo 5... no 15 dollari adesso ma perché mi pagano allora forse che avevo solo 5 dollari fino a un attimo fa devo pulire anche sullo sgabello e che altro c'è di sporco? sgabello è sporco questo va bene dovremmo aver finito perché non vedo più nient'altro abbiamo locker room quindi la room la sala lo spogliatorio che è qui e qui puliamo con cosa? ah con il mocho ancora va bene c'è ancora dell'altra? no a meno che non debba prendere la spugna e pulire il ve ok si va bene task completata avevo da completare ancora qualcosa a livello di questo cosa faccio? mi posso sedere e rilassare? no 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 voglio andare a fare palestra io no avevo ancora da pulire una zona ma vabbè mi hanno pagato andiamo a vedere qua abbiamo 50 metri usciamo all'esterno beh i detenuti saranno fuori quindi andiamo a fare un po' di palestra con loro immagino ah no questi oddio faccio palestra con i detenuti Donald Goldberg ah no questi sono tutti i miei colleghi free time dai andiamo a fare un po' di pesi dai devo premere sinistra e sinistra e destra di là ah con la freccia ok ok di nuovo devo farne 12 inutile dire che mi ricorda di scapist questa modalità ok vedrò di pubblicarvi il gioco per quando esce il per quando esce effettivamente su su steam devo andare non troppo veloce però non deve diventare rossa se no non la faccio correttamente diciamo l'esercizio ok siamo a metà ok non bene ma non benissimo diciamo provo ad andare a fare un po' più rilassata inizia ad avere male mi guardano un po' male tutti eh qua dai dai ne mancano 3 troppo veloce riposo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 good dai con l'ultima e almeno completiamo questo turno ok è guadagnato 20 di stamina ottimo ottimo ora dobbiamo vai alle vai dai prigionieri al al blocco delle celle va bene andiamoci bella la prigione però torniamo qua ormai io non io seguo le frecce ma non ho ancora fatto ho preso confidenza con con la prigione ma dovrebbero essere qua dentro i prigionieri questa non so che braccio della prigione sia perchè qua ci sono altri prigionieri che non sono i miei che non siete voi salve salve guardi chiuderei l'ultimo chiudo la porta vai al workshop e seleziona alcuni prigionieri usando il clicker per primo saranno pronti per allora ah per lavorare ok indica il massimo conto se tu indichi il massimo montare di persone per il lavoro scegliere tab per ah per farci lavorare ok quindi prendiamo il clicker chi lavorerà? chi mi ha dato problemi? oggi quindi beh io so che vabbè 5 persone dai allora so che a Ibu piace molto lavorare quindi Ibu è uno poi darkness no il lavoratore sarà eh eh farà assolutamente perchè così impari per tutti tutte le cose che mi hai tutti i flauti che mi hai fatto suonare tutto il copyright che mi hai fatto prendere eh eh po 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 sean castro di sicuro perchè ha fatto problemi e Ivan Di Pietro anche subito fila e poi l'ultimo direi che è cavolo in che gameplay gameplay channel poteva lavorare però lui vabbè ha visto i fantasmi penso qualche problemino quindi niente chiamiamo Silma che vuol fare l'artista e ti faccio fare l'artista al workshop ok bene ragazzi eh ok puoi prendere call a meeting and select with a click space ok start shooting ok cosa devo fare adesso ok follow me seguitemi e andiamo al workshop andiamo po 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 ah non è nessuno eh sarà stata la fatina buona vabbè andiamo avanti dai 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 qui si lavora io ho sempre paura di averci di tutti alle spalle dai vai al locker vai all'armadietto sulla destra all'entrata prendi i tool che scegli di default e vai da ognuno e dagli un tool per lavorare assicurati che tutti i lavori se qualcuno batte la fiacca usa la forza diretta o persuadilo ok devono lavorare in un tempo determinato se loro lavorano più a lungo i prigionieri guadagnano più soldi ok dov'è che è l'armadietto vicino all'entrata qua ok quindi mattello ok come faccio a dargli allora ibu ti do ti do il cacciavito ok ok poi farà tu hai vinto tu hai vinto file o sean cast il coltello io te lo do lo do a te iban di pietro ti do vrench e a silma diamo il martello ah vorrebbe spaccarmelo sulla testa vabbè intanto vediamo vediamo se lavorano ok bravo 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 cosa sta succedendo allora prima tool di forza diretta ok si sta menando questi iban di pietro sta menando nooo ma non volevo colpirti scusa c'è ibu 90 stava menando iban di pietro ma sei scemo allora questa cosa è successa probabilmente perché perché poi potete anche schierarvi con i con i prigionieri ma io non volevo task non completata se tu completi tutte le ehm ok vabbè mi hanno menato e sicuramente ho perso ho perso fiducia mannaggia eh no eh vabbè questo è un peccato però ci sta nel senso che se possiamo anche non 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 ubbidire gli ordini ci sta ah l'ho colpito per sbaglio avrei dovuto benardo con più attenzione capisco che tu hai già fatto tutto ehm sì per oggi è finito ok abbiamo fatto il livello 2 abbiamo condannato 10 dollari abbiamo 35 totale a rispetto delle guardie più 2 a rispetto dei prigionieri più 1 ehm rischio di rivolta a meno 1 ci siamo comportati anche piuttosto bene a parte gli ottosi di ibu 90 e ehm Ivan Di Pietro e da qui si inizia la seconda giornata che probabilmente porteremo avanti magari in live se vi andrà di vederla ora io attendo il vostro parere per poter diciamo portare nuovamente ehm questo gioco in video o ehm in live fatemi sapere qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video game play ok alla prossima ragazzi e ciao ciao